Sono state sospese nel fine settimana a Fluri Maggiore le ricerche del 52enne, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 3 gennaio, quando, risultato irreperibile, i familiari hanno allertato le forze dell'ordine. La decisione di sospendere le ricerche è stata assunta a seguito del confronto tra gli enti impegnati che hanno preso atto dell'esito negativo nonostante l'ingente dispiegamento di forze. Sono proseguite invece le attività investigative da parte delle forze dell'ordine. Le operazioni di ricerca sono state avviate la notte stessa della denuncia da parte dei tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione del Medio Campidano, allertati alle 22 dei carabinieri di Fluri Maggiore. Nel corso dei tre giorni di ricerca sono stati ispezionati oltre 40 km quadrati di territorio, su terreno impervio, sentieri, pozzi e corsi d'acqua, strade e casolari abbandonati. Sono stati verificati tutti i probabili avvistamenti segnalati e perlustrate le aree indicate dal gestore telefonico dell'utenza del disperso. Le operazioni sono state svolte anche con l'ausilio delle unità cinofila del soccorso alpino e dei vigili del fuoco e di due elicotteri. In gente il dispiegamento di forze in campo, circa 80 tecnici provenienti dalle stazioni di Iglesias, Medio Campidano, Cagliari, Nuoro e Sassari, i carabinieri di Fluminio Maggiore, il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco, del corpo forestale e di vigilanza ambientale, i volontari della protezione civile di Fluminio Maggiore, Arbus e di soccorso Iglesias e i numerosissimi amici e volontari del Paese che ogni giorno si sono presentati al centro di coordinamento per unirsi alle ricerche.